Diciamo che è grave il tasso di evasione, non voglio dire che sia una cosa irrimendiabile, però è molto grave perché ci troviamo con dei numeri, soprattutto per quanto riguarda il servizio urbano, particolarmente significativi. Sul tram alcune volte si raggiungono anche evasioni del 10%, a volte anche superiori sulle erarie notturni. Noi stiamo intensificando le squadre di controllo e di verifica, abbiamo intenzione anche di porre in atto ulteriori sistemi per garantire che chi viaggia abbia il giusto titolo di viaggio, che viaggi correttamente.